La Taranto dei diritti negati, la Taranto dimenticata, la Taranto città del terzo mondo e l'immagine proviene da qui, dal quartiere Paolo VI, dal tratto terminale di Viale 2 Giugno. Alle nostre spalle è una discarica a cielo aperto paurosa, inimmaginabile. Certamente l'inciviltà assurda di chi scarica di tutto di più e quindi queste persone vanno drasticamente sanzionate, mettiamo le telecamere, dobbiamo punire senza misericordia questi incivili, però viva Dio dopo mesi, io penso che l'amministrazione comunale dovrebbe pure intervenire per far rimuovere i fattori quanto abbandonato, altrimenti qui veramente andremo incontro a discariche paurose di proporzioni bibliche. Sono con un abitante del quartiere Paolo VI, Paolo D'Auria, fa piacere intanto vedere un giovane che ci mette la faccia, che vuole rivendicare la propria dignità di cittadino. E allora Paolo, vedendo una situazione del genere, io dico ma voi come vi sentite nel pagare le tasse e nel trovarvi così in una terra di nessuno? Beh, ci si sente male vedersi così ogni giorno perché questa non è una cosa di oggi o di ieri, è una cosa che da mesi è sempre stato così, come potete vedere, ma non solo qui, in tanti punti della zona, basta solo camminare e si vede tanta immondizia. Immondizia e discariche di tutto e di più, cioè qui quando noi diciamo paese del terzo mondo è la verità. Io qui a Taranto, come dice il nostro sindaco, la rinascita non la vedo, perché la rinascita è questa? Non lo so, se questa qui è la rinascita per lui, non bisogna solo pulire le zone e far vedere via Ligoria pulita o dove ci sono 10-15 spazzini casualmente che stanno pulendo quella zona mentre c'è lui. Ecco, a questo proposito mandiamo un attimo uno stralcio piccolo di alcune dichiarazioni di un'intervista rilasciata da Melucci, ascoltate cosa dice. Questa è una città dove invece c'è ordine, c'è pulizia. Paolo, allora ascoltando quello che ha detto, ho avuto modo di ascoltare bene, ha detto che Taranto è una città pulita e in ordine? Taranto è una città pulita e in ordine non si potrebbe dire, perché i fatti sono questi. Ma anche il centro trabocca di rifiuti, non solo le periferie? Anche il centro, soprattutto dopo il sabato sera, che come dici tu signor Luigi, bisogna punire chi sporca la città, perché non è possibile, ma tra l'altro si parla di turismo a Taranto, parlare di turismo è inutile, perché un turista arriva, soprattutto a città vecchia, dove doveva essere il fiore dell'occhiello della città, dove va a visitare, non ci sono locali, non ci sono zone dove si possono fermare. Non c'è un servizio di accoglienza intanto, ma il biglietto da visita peggiore è avere il benvenuto con cassonetti traboccanti di rifiuti, con rifiuti vicini ai cassonetti, cioè questo è l'impatto, il primo impatto che il turista ha. Allora la città vecchia, ecco mi permetto di dire, tu hai detto giustamente non ci sono locali, diciamo che la città vecchia è stata riqualificata solo per un piccolissimo tratto, quello che riguarda, diciamo, dalle colonne d'oriche un po' fino all'università, ma oltre non c'è nulla? Non c'è nulla e si potrebbe fare molto, soprattutto perché il turista non c'è solo nel giorno di nave, ma ci sono tutti i giorni. Si potrebbe fare tante cose, soprattutto dai peschereci, far visitare tante zone, come la zona di Mar Piccolo, perché il turista scende dalla nave e non sa dove andare. Ecco Paolo, ritorniamo al discorso di Paolo VI, il cittadino paga le tasse e non riceve servizi, anche questo poi crea un disamore dalla politica, il cittadino si sente preso per i fondelli e poi magari perde la pazienza, non crede più a nessuno. Non crede più a nessuno perché siamo stati presi in giro tante volte, non solo da questa amministrazione, anche dalle vecchie. Tutta questa immondizia soprattutto si trova in un punto dove sono state fatte delle installazioni degli alberi, dove il nostro caro sindaco ha fatto neanche l'anno scorso. Quindi del verde pubblico immerso in una discarica. Immerso in una discarica a cielo aperto soprattutto, dove la sera, ripeto, l'odore, te ne devi scappare. Il nostro giro per la città, centro e periferie continuerà e quindi avremo modo di ascoltare i cittadini della zona per sentire dalla loro viva voce il disagio, perché sennò può sembrare che io voglio enfatizzare, voglio ricamarci su, ma già le immagini parlano da sole e poi sono supportate dalla verità dei fatti esposti appunto da chi ci abita. Grazie a tutti.